tracciarvi un riassunto cerchio ifior attraverso tullia e gian non è nostra intenzione tracciarvi un riassunto del processo evolutivo del corpo acasico coscienza perché risulterebbe di difficile comprensione ai più e senza dubbio manchevole perché è impossibile tratteggiarlo con poche parole quello che ci preme farvi acquisire è il fatto che la vostra coscienza si va formando non è statica bensì si accresce gradatamente mentre voi vivete e che quanto essa ha compreso che segna i vostri ritmi di esperienza le vostre manchevolezze i vostri errori ma contemporaneamente vi fornisce delle giustificazioni al vostro modo di essere e di agire